È arrivato il momento di scaldarsi per questo ultimo round dei trofei motestate qui dal circuito Tazzi Nuvolari di Cervesina una giornata che si è aperta all'insegna della nebbia che poi nel pomeriggio ha lasciato spazio al sole dove abbiamo visto i primi tune di prove ufficiali di cui due sono già valsi per la pole position e andiamo a entrare nel merito della categoria 300 dove ci si gioca il campionato e vedremo partire dalla prima casella Stefano Sala che ha rosicchiato due punti al rivale Mattia Virone che partirà in seconda posizione mentre invece terza posizione c'è una sorpresa abbiamo Jacopo Colombo e ricordiamo come dicevamo poco fa che il campionato ce lo giocheranno proprio Stefano Sala e Mattia Virone Mattia Virone è primo con 8 punti di vantaggio su Stefano Sala quindi occhio perché sarà molto interessante la questione ma attenzione perché c'è anche Andrea Sorrenti terzo con 20 punti di distacco sì sono un po' tanti però la matematica ancora non lo mette fuori anche la Sportbike ha decretato la griglia di partenza per la giornata di domani seconda pole consecutiva per il numero 21 Mattia Sorrenti che si è messo alle spalle Fabio Starnone e una wild card quella di Federico Iacoi sulla Yamaha del Delmo Racing occhio però perché comunque il leader del campionato Roberto Jason Sarchi partirà dalla quarta posizione aprendo la seconda fila e il distacco fra lui e Fabio Starnone coloro che si giocano le campionate di soli 12 punti quindi occhi puntati anche su di loro l'altra race attac invece quella 1000 vede ben tre piloti a giocarsi il campionato all'ultima gara nel giro di 10 punti il leader della classifica è Matteo Cristini seguito da 9 punti da Diego Vitellaro e a meno 10 c'è Gabriele Proietti attenzione però perché momentaneamente dalla prima fila c'è Matteo Gallanne a scattare dalla pole position momentanea seguito da Cristini e Vitellaro staccati rispettivamente di 8 decimi e di 2 secondi un po' un ritardo abbastanza ampio ma comunque recuperabile nel Q2 la 600 Open invece correrà la sua gara insieme a quella del National Trophy 600 e Simone Campanini è sia il leader della classifica del campionato generale quindi anche qui il campionato sarà per le lunghe per quanto riguarda gli ultimi giri di questa categoria ma è anche comunque il leader del primo turno di prove ufficiali quindi è ancora messo molto bene il pilota seguito da San Savini e Cavallara l'ultima ma non meno importanti tutte le categorie dei trofei motestati che questo weekend si giocheranno il campionato al circuito Tazio Nuvolari è la 1000 Open con Alessandro Costantino che in classifica generale ha un vantaggio di soli 4 punti nei confronti di Paolo Cristini a meno 15 invece c'è Emanuele Lobartolo dopo un weekend difficile quello di Varano per la prima posizione ancora troviamo Alessandro Costantino seguito da Emanuele Lobartolo e da Paolo Cristini in terza posizione questo weekend inoltre quel circuito Tazio Nuvolari è presente anche il National Trophy con le categorie 600 e 1000 che concluderanno la stagione dopo il penultimo round svoltosi ad Imola e nella giornata di domenica avremo la possibilità anche di dedicare un ultimo abbraccio a Luca Salvadori con un momento di cordoglio e di raccoglimento e al termine della gara del National Trophy 1000 in programma alle 15.10 tutti i piloti, motociclisti e amici di Luca potranno assistere alla premiazione del campione postumo del campionato e alla consegna del premio al padre di Luca, Maurizio Prospetta dunque ad essere un finale pieno di intensissimi modi emozioni qui al circuito Tazio Nuvolari dove tutte le categorie tranne una si giocheranno il titolo fino all'ultima curva da domani mattina dalle ore 9.10 le ultimi turni di prove ufficiali a partire dalle 11.10 le gare e quindi è arrivato il momento di godersi questo gran finale Super 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 Grazie a tutti.